Ciao a tutti! Dunque, nel prossimo video vorrei trattare l'argomento dell'appoggio plantare. Prima però vorrei sapere da voi che tipo di appoggio, che tipo di impronta avete e qual è, secondo voi, l'impronta migliore per avere una postura corretta. Fatemi sapere qui sotto, scrivetemi, così ci confrontiamo. Ciao a tutti!